Sì, inizio una nuova avventura, sono molto contento, molto motivato. Ho iniziato già ad allenarmi con i miei compagni, mi hanno trattato molto bene, quindi sono tranquillo e ho tanta voglia di iniziare già a giocare con la maglia del Palermo. Hai conosciuto Stefano Pioli, il tecnico del Palermo, che impressione ti ha fatto? Sì, mi sono trovato subito a mio ascio con il allenatore, mi hanno trattato tutti molto bene, e niente, ora iniziare a lavorare tutti insieme per cominciare bene la prima di campionato. Sia in Sud America che in Italia hai giocato con diversi moduli, quindi non ti spaventa l'eventualità di giocare sia con una difesa a tre che con una difesa a quattro? No, l'ho fatto a quattro e anche a tre, quindi sarà una scelta che farà il mister e io sarò a disposizione sua per fare quello che lui piace. Mattia Silvestre, il Palermo acquista un elemento di grande esperienza anche internazionale, perché Silvestre in Sud America con la maglia del Boca Juniors ha vinto tutto e quindi c'è la volontà anche in Europa di mantenersi a questi livelli. Sì, sì, sicuro, mi auguro di fare un gran campionato con questa squadra, con la maglia del Palermo e poi cercare di arrivare il più lontano possibile e l'Europa sarà sicuramente un obiettivo. Il punto di forza del Palermo deve diventare anche la difesa, negli ultimi anni è stato l'attacco, hai già avuto modo di conoscere ovviamente Miccoli e altri giocatori che fanno parte del reparto offensivo, che impressione ti hanno fatto e questo è il punto di forza della squadra? Sì, sì, una buona impressione, darò il mio contributo per cercare di aiutare la squadra in fase difensiva e poi sappiamo che davanti abbiamo i giocatori in grado di fare la differenza. Mattia, sull'ultima domanda, cosa ti ha convinto di più del progetto del Palermo? Le ambizioni, sicuramente una squadra che ha ambizioni di crescere e in piena crescita, quindi è quello che mi ha convinto e mi ha portato fino a Palermo.